Ma te sei un preservativo anche! Sei bellino! Eccoci qua! Vai! Ho portato a far benzina come sempre, è il mio benzinaio di fiducia. Attenzione ragazzi, c'è il riso al sacremente! Cerco di farvela vedere un po' meglio. Mi hanno detto, provala, provala che tiene sull'acqua, in effetti la sto provando perché come potete vedere piove. E l'ho messa su, tiene sia caldo, anche se è leggerissima, si fa un po' quel caldo plasticuoso, quello è vero, però è vero, non passa l'acqua comunque, c'aveva ragione. È bruttissima, fa ridere da vedere, però è carnevale, a carnevale si può usare. Grazie! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti